Ecco, l'altro farà di suo ingresso in campo per la porta. Per la tredicesima e ultima giornata del girone di andata scenderanno in campo la Virtus Ortona a calcio e la Virtus Castelfrendano. Per il campionato provinciale categoria giovanissimi, girone Chieti. Il pubblico. Adesso ci sarà un minuto di raccoglimento, una volta schierati al centrocampo, ecco qua i loro ingressi in campo. Virtus Ortona a calcio, Virtus Castelfrendano. Virtus Ortona a calcio, Virtus Castelfrendano. Virtus Ortona a calcio, Virtus. Virtus Ortona a calcio, Virtus Ortona. Mambo salto al pubblico. Ii ha una mangiunta di Paraguay donde ciò chiede l'altro e noi si vende un pedicolo. La scelta del campo o del pallone. Ok, bocca al lupo ragazzi, bocca al lupo ragazzi. Vanno a salutare le panchine avversarie. La Virtus Castelfrentano gioca con la seconda maglia ufficiale, bianca, con risvolti giallorossi, calzettoni gialli, mentre l'Occona Calcio con la classica maglia giallo-verde. Adesso sono pronti, mettetevi tutto unito. Grazie. 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 Grazie.